Giorgio De Togni, ruolo centrale, è una delle punte di diamante della Vivi Alto Teverevolle di San Giustino. Possiamo dire che un riparti da San Giustino per tornare in nazionale? L'obiettivo di quest'anno, oltre a fare un buon campionato personalmente e per tutta la squadra e la società, è quello di arrivare all'estate prossima a giocarmi un posto per la nazionale, è il mio obiettivo. Tu che hai vissuto da avversario il Palachemon, che tipo di ambiente è? Beh, per me è tutto da scoprire, nel senso che da avversario è un campo molto ostico, difficile, lo dimostra il fatto che l'anno scorso qua con Treviso siamo andati sotto 2-1 e stavamo perdendo sia il quarto che il quinto set e abbiamo recuperato in maniera rocambolesca, me lo ricordo benissimo, con i tifosi che incitano sempre, in ogni momento la squadra, è veramente il settimo, l'ottavo uomo in campo per noi quest'anno. Il mix giusto potrebbe essere il tifo del Palachemon, la vostra professionalità, la voglia di dimostrare quanto valete e soprattutto le motivazioni. Beh sì, il pubblico spero ci dia una grossa mano perché è un anno secondo me bello da vivere tutti insieme. La motivazione è a mille, c'è un bellissimo mix di giovani, di ragazzi meno giovani con molta esperienza alle spalle e ci sono dei ragazzi che sono una via di mezzo, che potremmo essere io, che potremmo essere l'altro centrale tedesco, che diciamo non siamo più giovanissimi però abbiamo fatto comunque i nostri anni di esperienza e cerchiamo di portare, di fare da unione tra il gruppo un po' più esperto e i giovani talenti che ci sono all'interno di questa squadra. Si è parlato molto della vostra unità, avete già fatto gruppo, c'è già una buona amalgama, potrebbe essere anche questa un'arma in più? Beh, viviamo praticamente tutti nello stesso residence, ieri eravamo a cena in quattro nel giardino dove stiamo per dirvi. Secondo me il gruppo ci aiuterà molto a superare i momenti difficili e ci aiuterà moltissimo anche ad esaltarci nei momenti in cui magari le cose andranno molto bene e speriamo benissimo. Tu che hai giocato in squadre estremamente competitive, la Sisley è stata una delle ultime squadre in cui hai militato, vieni a San Giustino per provare a ritornare in nazionale. E' un punto di ripartenza? E' un punto di ripartenza, sì, perché no? Perché no? San Giustino mi ha dato la possibilità di rimanere a giocare nel campionato di vertice italiano e per me è una ripartenza, è un nuovo ambiente dove spero di dimostrare quello che magari ho dimostrato a Treviso e di fare ancora meglio se possibile. Sembrava un campionato destinato a livellarsi verso il basso, così non è, lo dicevamo anche con gli altri giocatori. C'è da dire che le ultime cinque si sono notevolmente rinforzate. Ravenna, Vibo? Sì, Ravenna ha fatto una squadra secondo me di buon livello, Vibo, Idem, Castellana comunque ha fatto mercato. Noi non abbiamo nessun timore riverenziale nei confronti di nessuno, chiunque verrà qua a giocare giocherà contro la squadra di San Giustino che gioca per vincere e per uscire dal campo senza avere nulla da recriminare a fine partita.